Ciao a tutti ragazzi, come va? Dopo ben 3 anni, dal 2018, torna una top, e come direbbe il protagonista della serie che oggi andremo a trattare. Bene, prima di iniziare, le dovute premesse. In questa classifica ci saranno solo Metal Gear considerati come canonici, quindi niente Snakes, Revenge o anche Portable Ops, benché comunque abbia giocato e apprezzato questi due giochi, il motivo è che semplicemente Metal Gear è una saga dove ogni gioco punta anche sulla trama affinché possa anche collegarsi nei prossimi capitoli, quindi l'essere non canonico o semi-canonico, insomma, avete capito, non mi fa impazzire l'idea. Secondariamente, questa classifica è al 120% soggettiva, personale e si basa sulle mie opinioni e pareri, se non siete d'accordo, va bene, basta semplicemente non insultare. Ultima premessa e poi iniziamo, io gioco a Metal Gear Solid da quando avevo sì e no 6 anni, quindi voglio precisare che conosco molto bene la saga. Bene, ora possiamo iniziare perché credo che vi ho già rotto abbastanza i coglioni XD. All'ultimo posto, abbiamo il primissimo Metal Gear della storia dell'umanità, L'ultimo posto non significa essere brutto visto che per me non esiste nessun Metal Gear brutto, tranne un certo survival che dopo averlo pronunciato andrò a lavarmi la bocca con l'acido muriatico, ma semplicemente ci sono Metal Gear che mi sono piaciuti di più. Il primo Metal Gear fu rilasciato nel 1987 per il computer giapponese MSX2 e poi fu incluso nella versione Substance di Metal Gear Solid 3 rilasciata nel 2006. Parlando del gioco in sé, beh, inizialmente sarebbe dovuto essere un gioco action, ma Kojima si rese punto dell'hardware limitato e decise di farlo stealth. Questo contribuì a creare un nuovo genere, per la prima volta i nemici andavano evitati e non eliminati, inoltre nel gioco sono disponibili comunque un bel numero di armi ed è estremamente variegato, ovviamente Snake non può fare granché, infatti può solo muoversi, dare pugni e sparare, ma questi limiti per fortuna il gioco non li fa sentire. Quindi sì, è un gioco piuttosto divertente, simpatico, bello da giocare e rivoluzionario per la sua epoca, ma comunque non esente da difetti, tipo che i tuoi alleati via radio sono quasi tutti inutili, i boss sono dimenticabili e soprattutto è molto dispersivo, infatti questo gioco da piccolo non ero neanche riuscito a finirlo proprio, perché ad un certo punto non capivo dove cazzo dovevo andare. Ehi, ma perché non parli anche della versione NES di Metal Gear? A vero, grazie coglione, em, omino, beh, l'omino ha ragione, in effetti fra il 1987 e il 1988 fu rilasciata una versione per Famicone NES, che sarebbero la stessa console, e niente, questa versione fu fatta senza Kojima e fu fatta anche mettendo il culo sulla tastiera, infatti è davvero terribile la versione per la console Nintendo, dico semplicemente che non c'è il Metal Gear nel gioco e nelle password per caricare le partite, ci sono offese alla Redi Spagna, al Brasile e ad altri paesi, esistono anche altre versioni per DOS e per Commodore 64, ma sono una più merdosa dell'altra, ora passiamo oltre. Passiamo alla prossima posizione, dove troviamo il seguito di Metal Gear, cioè Metal Gear 2, Solid Snake. Rilasciato nel 1990 di nuovo per MSX2, questa volta solo e soltanto in Giappone senza versioni merdose alternative fatte per noi sfigatoni occidentali privi di MSX2, dovremmo infatti aspettare il 2006 quando verrà inserito tradotto, velocizzato e leggermente modificato nella versione Substance di Metal Gear Solid 3. Ok, parlando del gioco in sé, Kojima ha saputo gestire bene i soldi ricavati dal primo Metal Gear, non buttando i soldi nel cesso è riuscito infatti a mantenersi lo stesso genere senza stravolgerlo, ma allo stesso tempo rendere il gioco più diverso rispetto al predecessore, infatti questa volta Snenik può strisciare per nascondersi, per passare nei condotti da riazione, può fare rumore per attirare i nemici, questa volta i boss sono più ricordabili poiché hanno delle loro backstory, alcune anche ben riuscite. Poi le musiche sono davvero una più bella dell'altra, tant'è che nel 1991 fu rilasciato in Giappone il CD ufficiale con la soundtrack, sono molto belli anche i nuovi tranelli e trappole, alcune vecchie e altre nuove, le armi sono più o meno le stesse del precedente gioco e i tuoi alleati già sono più utili e interessanti e ci sono anche dialoghi fra personaggi in cui non si parla per forza della missione, ma anche del passato dei personaggi, invece nel vecchio Metal Gear ogni dialogo era vai lì e fa quello, sta attento perché là ci sono merde volanti dotate di esplosivi eccetera. Riguardo i difetti, beh, ammetto che la trama seppur interessante e originale, ammetto che è un po' troppo surreale, il gameplay invece, i problemi più che altro sono i boss troppo sbilanciati, c'è il primo boss che è difficilissimo e gli altri che sono una minchiata, e poi il gioco punta un po' troppo sul backtracking, ho capito che siamo nel 1990, ma comunque sono troppe le volte che dobbiamo tornare indietro al fottuto edificio 1. Per il resto, sarà anche un gioco in 2D, ma comunque se ci giocherete, non vi troverete dinnanzi a Super Mario, ma ad un gioco degli anni 90 che per allora era unico nel suo genere. Prossimo posto, mi duole ammetterlo, ma sono costretto a mettere Metal Gear Solid 5, sia Ground Zeroes che The Phantom Pain. Pariamoci subito il culo dicendo che The Phantom Pain al gameplay migliore di tutti Metal Gear, si passa dalla fluidità dei movimenti al fatto che esistono 3798 miliardi di modi diversi per finire una missione o anche superare o stordire un nemico, ma ora vi spiego con calma. Rilasciato il primo settembre 2015 su PS3, PS4, Xbox 3 e 60, Xbox One e Computer, Metal Gear Solid 5. Io l'avevo aspettato da anni, seguivo ogni singolo trailer e poi il gioco è uscito e preso all day one. I momenti emozionanti ci sono, la trama e i colpi di scena sono belli, ma sincero, questo gioco non mi ha emozionato come i precedenti capitoli, non ci sono stati momenti che mi hanno fatto emozionare chissà quanto, l'unica parte che davvero mi ha quasi fatto piangere il capitolo sul contagio nella Mother Base, ma preferisco non spoilerare. Poi vabbè, il gioco ha più tagli di Crash Twin Sanity, e non parlo solo di gameplay, ma parlo anche di trama, e se in una saga come Metal Gear che punta tantissimo sulla trama mi tagli dei pezzi, hai praticamente già mezzo ucciso il gioco, è come eliminare un numero elevato di auto da gran turismo o come togliere i calci in Tekken. Quindi niente ragazzi, è un gioco molto divertente, è sicuramente un capitolo da fare, ma, personalmente, non è all'altezza dei predecessori, mi aspettavo di più per un gioco tanto atteso, e poi ricordiamo che il 18 marzo 2014 ci hanno regalato l'inculata di 40 euro nota come Ground Zeroes, quindi passiamo alla prossima posizione. Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty. Rilasciato nel 2001 solo su PlayStation 2 e fra il 2002 e il 2012 è stato rilasciato per PS3, PS Vita, Xbox 3 e 60 e computer. Allora, Metal Gear Solid 2 da bambino, un po' come tutti, lo odiai perché come tutti sappiamo, per la maggior parte del gioco useremo Raiden e Nozneric, questa cosa fece girare i coglioni a tutti all'epoca, poi crescendo ho riscoperto il 2 e mi ero reso conto della meravigliosità di questo gioco, il gameplay è nettamente migliorato rispetto al predecessore, questa volta per la prima volta possiamo mirare in prima persona con tanto di armi tranquillanti, possiamo far alzare le mani ai namici e nascondere i corpi negli armadietti. Riguardo la trama e i temi trattati, è tutto molto interessante e significativo però il gioco, benché è riuscito ad emozionarmi soprattutto nel finale, come emozioni e suspense ho preferito di più il predecessore, è una questione personale ovviamente, ma non so, Metal Gear Solid mi ha dato molte più emozioni, i boss del 2 sono belli e memorabili ma siamo lontani dalla Foxound. Una lode particolare a questo gioco è la sua rigiocabilità, infatti introducendo le targhette ottenibili facendo alzare le mani alle guardie, il gioco ha aumentato di gran lunga la rigiocabilità, molto rara per uno steat, e una volta ottenuto un numero determinato di targhette avremo accesso a dei premi, e per prendere sempre più targhette dovremo man mano alzare il livello di difficoltà fino ad europeo estremo, aumentando di lunga il livello di sfida proposto dal gioco, inoltre Metal Gear Solid 2 ha probabilmente la modalità europeo estremo più difficile da completare, inoltre nell'edizione Substance o HD Edition sono presenti le VR Missions, difficilissime ma che invogliano il giocatore a completarle tutte, in presa riuscita dal sottoscritto con tanto di trofeo su Play 3. Ora direi di avanzare, abbiamo P.S.Walker. Rilasciato nel 2010 per PSP, nel 2011 approda anche su PS3 Xbox 360, mentre stranamente non è mai uscita una versione per PS Vita, su quella console infatti si può scaricare solo la versione per PSP, ma a parte questo. Miss Walker come gameplay ovviamente risente delle limitatezze della PSP, anche se almeno non risulta ingiocabile come purtroppo molti giochi per PSP lo erano per colpa di quel fottuto secondo analogico assente, tuttavia se il gameplay ne risente, tipo i nemici che spariscono una volta uccisi e non spostabili, Kojima ha ben pensato di creare un qualcosa di assolutamente inedito, ossia la Mother Base. Potremmo infatti raccogliere i nemici sul campo di battaglia per aumentare il nostro business militare, e mettendo i soldati nelle giuste classi, potremo aumentare le piattaforme per altro personale, potremo aumentare l'efficienza medica e alimentare per i nostri uomini e sviluppare armi sempre più potenti e utili. Io sto gioco all'epoca, lo ho giocato tantissimo e ricerca e sviluppo. Arrivai a livello 93, ho gettato nel processo giorni della mia vita, ma almeno ebi la pistola tranquillante che anestetizza al primo colpo anche se spari nel piede XD. La trama ovviamente, davvero ricca di significati e temi trattati ancora una volta magnifici, è la scelta di utilizzare i disegni a fumetto per compensare i limiti della PSP, ha reso il gioco ancora migliore, che dire, questo gioco è davvero divertentissimo e mi dispiace venga snobbato, ma comunque bisogna tener conto che è stato sviluppato su una console portatile, di conseguenza è limitata, considerando che il capitolo in ordine d'uscita che precede Peace Walker è Metal Gear Solid 4, che pesava 50 GB ed era su PS3. Ok signori, medaglia di bronzo a Metal Gear Solid. Rilasciato nel 1998 solo per la prima PlayStation, fu rilasciata una versione per PC nel 2000 e poi inserito nel PlayStation Store di PS3. Questo gioco ha un posto speciale nel mio cuore, essendo stato il mio primo Metal Gear come il 99% degli occidentali, e già all'epoca sviluppai una sensazione d'amore eterno verso questo capolavoro, l'atmosfera di Shadow Moses mi ha lasciato un'ombra dentro di me che resterà in eterno, la trama fantastica, i colpi di scena, i personaggi, i boss, fra cui ovviamente il leggendario Psycho Mantis, davvero tutto fantastico, i momenti tristi sono fra i migliori della storia dei videogiochi, non voglio spoilerare, perché ci tengo che questa classifica sia godibile anche a chi non ha mai giocato a Metal Gear e vorrebbe farlo, ma chi ci ha giocato sa bene di quali momenti tristi parlo. Poi ovviamente il gameplay è buono per essere il primo Metal Gear 3D, Kojima infatti sin da subito non voleva chiamarlo Metal Gear 3, ma solido per evidenziare il passaggio fra 2D e 3D, e poi ovviamente, un altro punto fortissimo di questo gioco, è il fottuto, ma fottuto, doppiaggio italiano, i cui doppiatori sono tuttora ricordati dai più veterani della saga come il sottoscritto, purtroppo questo è il solo Metal Gear multilingue, in quanto dopo di questo, gli unici doppiaggi contemplati saranno quelli in lingua inglese e giapponese, direi di passare alla medaglia d'argento XD. Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Rilasciato solo su PS2 nel 2004, come al solito, verrà in seguito rilasciato anche su PS3, Xbox 3 e 60 nonché PS Vita. Questo capitolo è il primo in assoluto ad essere ambientato nel passato piuttosto che nel futuro. Per la prima volta vestiremo i panni di Narked Snake, cioè Big Boss prima di diventare sia Big Boss che il cattivone di turno dei primi due Metal Gear della storia dell'universo, beh, che dire, per superare l'amore per il primo Metal Gear Solid, se il 2 non c'era riuscito, il 3 all'epoca mi fece uscire fuori di testa. Per la prima volta saremo in una cazzutissima giungla piena di animali, nemici, trappole peggiori del Vietnam, non avremo con noi le radar, i nemici molto più pericolosi con un campo visivo davvero elevato, e riguardo la trama, essendo un prequel quasi tutti i personaggi sono naturalmente nuovi, ma sono riuscito ad amarli davvero tutti, i boss come Cobra rimarranno non nel mio cuore, ma nel DNA, il mio preferito ovviamente, il fighissimo e fottutissimo Tessorrod. Inutile dirvi come la trama mi è subito preso e le lacrime versate nel finale, chi ha giocato oltre sai bene il finale cosa consiste, parlando invece del gameplay, benché i movimenti di Sneric sono più o meno gli stessi dei vecchi Metal Gear, l'introduzione inedita del fattore sopravvivenza che ci costringe ad uccidere gli animali per mangiarli, trovare medicine per curare le ferite subite in battaglia, nemici come già detto molto più intelligenti, il doverci mimetizzare nell'ambiente, gestendo bene anche quale mimetica è la migliore in quella circostanza al fine di non farci individuare, ha reso il gioco ancora più difficile e bello da giocare, soprattutto per finirlo senza alerte e uccisioni, obiettivo che ogni giocatore di Metal Gear vuole raggiungere. Ora medaglie d'oro, ovviamente, avete già capito. Metal Gear Solid 4, Gunsoft e Patriots. Rilasciato nel 2008 solo per PS3 senza nessuna futura conversione per altre piattaforme, Metal Gear Solid 4 segna la fine dell'intera storia di Metal Gear che fino a quel momento aveva 21 anni alle spalle, non so nemmeno da dove iniziare, mi sentirei di finirla qua, ma comunque meglio dare spiegazioni XD. Il gameplay questa volta rivoluziona anche i movimenti Disney, infatti in questo capolavoro viene introdotto per la prima volta il combattimento in terza persona a mezzo busto, la mimetizzazione generale introdotta, ma con la famosa tuta che prende l'aspetto dell'ambiente su cui siamo stesi o appoggiati e il fatto che non ci sia più il sistema di sopravvivenza del 3, secondo me è un bene. Siccome nel contesto del 4 avrebbe stonato, abbiamo il negozio di Debrin dove comprare le armi con i punti acquisiti in battaglia, abbiamo tante armi speciali e oggetti speciali fighissimi e per averli dovremo completare in carichi sempre più difficili, quindi aumentando la rigiocabilità e il livello di sfida proposto dal gioco, guardie ancora migliorate e per la prima volta possiamo finalmente guidare un fottuto Metal Gear. Parlando invece della trama, questo gioco ha dovuto concludere la meravigliosa storia di questa saga, vengono mostrati oramai cresciuti quasi tutti i personaggi dei vecchi capitoli, inoltre il gioco infatti ha più filmati che ore di gameplay, ma sinceramente lo vedo più un pregio che un difetto, e poi i momenti stratta lacrime sono anche troppi, soprattutto il finale, dove arriverà una certa persona e poi, chi lo sa, lo sa, dico semplicemente, il finale migliore che poteva esistere per concludere una saga come Metal Gear. E niente ragazzi, il video è finito, spero che vi sia piaciuto, se volete, scrivete anche voi la vostra personale classifica dei vostri Metal Gear preferiti, mettete ciò che volete, basta che non vi mettete survival xd, scherzo ovviamente, ci becchiamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi e statemi bene.